buongiorno donna amata un malerì faccio il mio giugio con il telefonino mentre la lavatrice fai il lavaggio io ho conto conto dei contagi i primi positivi nel quartiere sono stati parrucchiani o parrucchieri che si sono infettati la stessa sera nel letto con la moglie del portiere e ha preso l'orvulo da baccare osato farmacisti ordumano la moglie del portiere per prevenzione a tutte e sei si ha fatto voto amore donna amata donna amata e quanta clip va a vessa manna donna amata donna amata no vi prego non posso chattare non posso chattare non posso chattare non posso chattare e quanta coppia sopra l'isolotto perdono a cape coppia a cape sotto e poi non sopra lo fanno il confronto e sanno i corda catena in fronte mi piace pure la durse la venire perché fanno i capelli di mestiere e immagino ma il gioio che è ricchino che ha giusto insieme alfonso signorino donna amata donna amata donna amata e quanta clip va a vessa manna donna amata donna amata donna amata no vi prego non posso chattare non posso chattare non posso chattare non posso chattare poiché tenevo un po' le sisse scese in verità non ho patata spese ho andato dal chirurgo di la riga e mo tengo una quarta coppa a c mi ho messo un reggisino chiamma mai ma mio marito non mi guarda mai e invece che sta coppa quel coglione si guarda sulla coppa i campioni ma quando su danzoni c'era le otto allora mio marito si fa sotto se siete belle e buone in pesciolone e c'è la capinta televisione donna amata donna amata donna amata e quanta clip va a vessa manna donna amata donna amata donna amata vi ho pregato non posso chattare non posso chattare non posso chattare ho visto sul profilo la ferragna che mette i polpettini da lasagna e il suo marito il povero fedezza cucina la postina e passa la pezza ma non parla di elettra lamborghino che la vesli prendo la bandina perché le sue mutande sono di marca e pacca sono da francia e da dimarca mi spiace quel belenno di martino e pure patatangelo e giggino e so come i piatori agregorati spero che tutti quando fanno pace donna amata donna amata donna amata e quanta clip va a vessa contà donna amata donna amata donna amata no mi prego non posso chattare 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 capa lo frate lo vittorio sgarvi che se non fosse stato per maria vannesse i cazzotti alla ferrovia e intanto mio marito salvatore che è sempre stato un bravo cantautore può cantare a casa senza libreria perché non lecca il culo di maria ma non lo dici di un giro consiglio i vanni sporchi lavano le infamiglie ma donna lavati già scaricata io c'è questa tesana si allagata donna amata donna amata donna amata e quanta clip va a vessa ma no donna amata donna amata no vi prego non posso chattare 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 non